Si chiama Gli Amici di Johnny ed è l'associazione nata per ricordare il regista e videomaker Giuseppe Piva, mancato prematuramente un anno fa a soli 46 anni. Una bella iniziativa per portare avanti la memoria di Giuseppe. Sì, è veramente una bella iniziativa, aveva degli amici veramente cresciuti insieme. Mi fa molto piacere che abbiano fatto questa cosa qui perché così meno si ricorderanno di Giuseppe. Il responsabile del comparto tecnico di Telelibertà era stato colpito nel maggio scorso da un improvviso malore che lo aveva strappato alla sua famiglia, la compagna Alessandra e il piccolo Michael di soli nove mesi. Il giorno successivo alla sua scomparsa, la famiglia di Editoriale Libertà si era ritrovata allo spazio rotativo per rendergli omaggio con l'anteprima del documentario Vistosi Stampi, dedicato ai 140 anni del quotidiano Libertà, realizzato proprio da Giuseppe assieme al collega Gero Guagliardo. Ora gli amici e quanti lo portano nel cuore hanno costituito l'associazione per dare continuità alle attività e passioni di Giuseppe. Amici di Johnny è nata per questo, ha raccolto adesioni da parte di tutte le persone che lo conoscevano e rimaniamo sempre aperti anche a nuove adesioni per questo, con l'obiettivo di portare avanti le sue idee nel territorio per le passioni che aveva, cucina e cinema. Il primo della serie di eventi per ricordarlo sarà una cena mercoledì 8 maggio all'Osteria La Cambusa di San Polo. Per raccogliere fondi e con l'obiettivo di, a settembre, far partire a Regneri Marcora una borsa di studio in sua memoria. Una iniziativa realizzata anche grazie alla collaborazione della Fondazione di Piacenza Evigevano e di Walter Bulla. Sono prestato subito a dare il mio piccolo contributo e quindi si completerà con questa cena che faremo tutti assieme per ricordare Piva.